Qual è la coesione e condivisione istituzionale sugli obiettivi? Il primo obiettivo è il trasferimento entro fine settembre di parte della comunità Roma dall'auditorium di Scampia e quindi l'allestimento almeno iniziale della sistemazione nell'area nord Scampia della caserma Boscarello e poi di seguito saranno fatte tutte le altre azioni. Devo dire che ho registrato una grande disponibilità del Ministro della Difesa e anche queste parole del Ministro Minniti vanno nella direzione che ci siamo dati in città e quindi c'è l'attenzione e il rispetto per quella che è l'azione amministrativa e politica della nostra città.